Resta stabile in ribasso l'andamento pandemico in Abruzzo. Oggi, domenica 30 maggio, sono stati registrati 54 nuovi casi positivi di età compresa tra i 5 e i 93 anni che hanno portato il totale delle persone contagiate a 74.026. 11 nuovi casi in provincia dell'Aquila, 12 in quella di Chieti, 6 in provincia di Pescara, 22 in provincia di Teramo con due casi relativi a persone residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore 2.793 tamponi molecolari e 1.125 antigenici per un totale di 3.918 test e un tasso di positività complessivo che ammonta all'1,4%. Non si sono registrati nuovi decessi nelle ultime 24 ore, pertanto il numero di persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia resta stabile a 2.450. 65.986 sono ad oggi guariti, soltanto 3 nelle ultime 24 ore, pertanto gli attualmente positivi sono 50 in più, 5.559. Rimane stazionario l'andamento della pressione ospedaliera, 133 sono i ricoverati in area medica, 3 in meno rispetto a ieri, 1 in meno anche in terapia intensiva, soltanto 14 pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, 5.412 tutti gli altri positivi che si trovano in isolamento domiciliare.